Ho iniziato per caso, sono entrata in un box di CrossFit veramente per caso perché una mia amica mi ha parlato di un corso funzionale dove ci si tira tantissimo per lei ci si tira tantissimo voleva dire ci si asciuga, si dimagrisce eccetera quindi io sono andata lì non pensando di trovare quello che poi ho trovato nel box di CrossFit Parma dove ho iniziato ecco Ho iniziato le competizioni dopo circa soli nove mesi di allenamento proprio perché la prima competizione la organizzava Federico Biasetti di CrossFit Parma che era l'Italian Throwdown, tra l'altro dove partecipò anche Lacy Covax che adesso è il mio coach mi fa la programmazione, il Covax Training System e dopo nove mesi ho provato a fare la qualifica, era solo un vodo di qualifica sono passata per un pelo, tipo ne passavano 30, io ero trentesima e così è partito, mi è piaciuto e ho continuato Non ci credevo quando mi sono qualificata a Regionals nel 2017 fino all'ultimo minuto fino a che ad aprile non mi è arrivata quella mail dove mi avevano mandato l'invito io non credevo di poter andare insieme a quelle ragazze fortissime ed è stata veramente un'esperienza particolare perché io sento, l'ho sentita di vivere molto molto male ero trentesima, non ci credevo, quando sono usciti i workout non volevo più andare perché era tanta ginnastica e la ginnastica non è, diciamo, proprio la parte dove io sono più brava erano usciti tanti muscle up, tanti lavori con i dumbbell pesanti e in quel momento mi ricordo che piangevo tutti i giorni quando provavo i workout ero molto nervosa, non volevo andare, sentivo tanto la tensione quindi il mio più grande rammarico è stato proprio quello di non aver vissuto quell'esperienza che doveva essere la prima esperienza bellissima vissuta proprio male e non divertendomi quest'anno per il 2018 sono molto più tranquilla perché prima di tutto adesso che sono usciti i workout sono usciti delle cose che a mio parere per l'atleta, il tipo di atleta che sono io sono più, tra virgolette, divertenti ecco, mi posso, diciamo, divertire di più pensare meno alla tecnica ma spegnere quello che si può dire il cervello e andare, divertirmi, vivermela e spingere, ecco quest'anno è cambiato tantissimo perché ho aperto CrossFit Carpi e quindi oltre che ad essere atleta poter allenarmi la mattina, andare a casa, mangiare, dormire, riallenarmi quindi fare la vera e propria vita da atleta adesso ho deciso di intraprendere questo cammino con quelli che sono ora i miei atleti, i miei ragazzi e quindi le ore di lavoro sono tante si entra la mattina al box che sono le 9 c'è allenamento, dopo ci sono le classi allenamento di nuovo, classi fino alla sera e tutto quello che comporta comunque la gestione di un box come può essere la burocrazia, l'amministrazione anche solo il pulire, il bagno e gli spogliatoi dopo aver fatto tutte le classi pomeridiane quindi arrivare a casa alle 10, mangiare alle 11 andare a letto a mezzanotte e sentirsi magari più stanca rispetto a prima ecco, forse c'è la paura di sentirsi più stanca però devo dire che tutto sommato sto riuscendo a portare avanti tutte le cose contemporaneamente anzi, sono molto più contenta quest'anno perché sento di trasmettere quello che è la mia conoscenza anzi, più che la mia conoscenza la mia passione per il crossfit anche a quelli che sono i ragazzi che sono qui iscritti i miei clienti, quelli che vogliono diventare in un futuro magari degli atleti che si sono appassionati anche loro tantissimo al crossfit quindi quello che è la mia passione sto cercando di darla anche a loro e tutto quello che comporta quindi è vero si stanchezza ma anche tanta soddisfazione Il consiglio che do quando iniziano a fare crossfit è quello prima di tutto di divertirsi venire qui senza troppe aspettative senza paura, infatti quello che vedo spesso è la risposta è io non ho mai fatto nulla non mi sono mai allenata, ho paura non c'è da aver paura c'è solo da mettersi in gioco ad avere la voglia di imparare la voglia di fare amicizia perché quello che io dico sempre il bello del crossfit è che sì tu fai un workout, l'allenamento e sei solo tu però sei anche con gli altri il crossfit è bello perché c'è una community quella che noi chiamiamo community ed è fantastica non sei mai da solo se c'è qualcosa che non sai fare se c'è un momento in cui non ti senti in grado di fare qualcosa c'è sempre il tuo compagno che ti dà un aiuto ti sprona, ti dice dai non ti fermare continua, quello è importantissimo l'esercizio che mi piace di più in assoluto devo dire che con la passione che ho mi piacciono tutti anche quelli dove sono meno brava per esempio lo snatch ecco io non sono una maestra dello snatch ho fatto tanta fatica per impararlo per migliorare la mia mobilità e per imparare ad andare bene in squat però è uno di quegli esercizi che mi piace tantissimo fare anche se non è il mio ecco non è dove è non è la mia eccellenza oppure anche muscolap i ring muscolap mi piace farli anche se io da competitor che va ai regionals sono due anni di regionals ancora non ne attacco dieci però quando li faccio mi piace ecco la disciplina, l'alimentazione sono il 100% bisognerebbe sempre mangiare correttamente seguire l'alimentazione corretta allenarsi tutti i giorni non saltare mai una routine importante come può essere anche solo un buon warm up un buon riscaldamento tutto bisogna fare tutto quello che è nella nostra scaletta che ci serve per migliorare logicamente fortunati chi atleti diversamente da me possono sforare diciamo dall'alimentazione spesso mentre io sono consapevole del fatto che sono già un atleta pesante l'alimentazione per me è la base se io non mangio correttamente più giorni il mio training il mio allenamento ne risente anche le mie performance ne risentono abbastanza quindi io so che devo stare sempre tra virgolette all'occhio rispetto a quello che faccio in allenamento nell'alimentazione nel dormire e tutto il resto il tempo libero no è molto poco devo essere sincera da quando ho aperto il box la mia vita gira tutta intorno al box intorno ai miei ragazzi quando vado a casa io penso ai miei ragazzi penso magari all'allenamento che il giorno dopo devono fare penso al mio allenamento comunque le mie giornate ruotano tutto intorno al crossfit la mattina mi sveglio faccio colazione apro il box mi alleno le mie 2-3 ore insieme al mio socio dopodiché partono le classi il pranzo allenamento di nuovo 2-3 ore di nuovo le classi e la sera si arriva sempre tardi a casa quindi sì tempo libero vita sociale un po' poco e poi dal mio punto di vista c'è anche una bimba di 8 anni di conseguenza il tempo libero cerco di dedicarlo il più possibile a lei anche se essendo lei mia figlia fa anche lei la vita da palestra ecco è spesso con me al box prova ad allenarsi prova a divertirsi a fare dei giochi anche lei con il crossfit però provo a tenere quel po' di tempo libero qualitativo per lei e basta il rito propiziatorio quando ho gare importanti lo posso dire? allora vado sempre lo dico vado sempre in bagno prima di fare il workout che sono quei 10 minuti prima di entrare nella hit e faccio una preghiera diciamo ecco chiedo aiuto chiedo aiuto e a Gesù mi chiedo sempre ti prego fai che vada tutto per il meglio questo è tutte le volte ogni volta che devo entrare in campo gara bagno mi prendo quei due minuti di tempo un attimo di silenzio perché si sa che area warm up competizione musica c'è sempre tanto casino faccio questo volevo ringraziare tutto il vostro supporto durante la preparazione per gli open tutti i messaggi che mi sono arrivati prima della partenza dei regionals veramente io spero con questa piccola intervista di poter trasmettere un poco quella che è la mia passione anche a voi che mi state guardando e soprattutto di credere che magari in un futuro se anche voi avete questo obiettivo di fare gli open bene di qualificarvi a regionals di crederci di impegnarvi perché dico sempre che è possibile con l'impegno con la grinta e prima di tutto è anche con la testa si può fare grazie a tutti un bacione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti